Si parla di massomafie ma in questo periodo di contemporaneità ci sono gli strumenti secondo lei per sconfiggerle? Strumenti ci sono, ci vuole la volontà istituzionale per farlo, finora non sono le forze prevalenti quelli che vogliono arrivare al cuore del sistema criminale, cioè la penetrazione delle mafie e della corruzione all'interno delle istituzioni e ovviamente anche della politica del nostro paese. Ne vogliamo parlare perché c'è troppo silenzio su queste vicende e quando c'è silenzio c'è il rischio che quelle forze che invece correttamente continuano con autonomia e professionalità e coraggio a indagare sul sistema criminale possono essere lasciate isolate e l'isolamento è la maniera migliore poi per uccidere servitori dello Stato con i proiettili istituzionali che sono le nuove tecniche di neutralizzazione delle persone che all'interno dello Stato si ostinano ad applicare l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge. Il dibattito politico intanto è fermo alla riforma del processo penale, alla prescrizione e la direzione quella là è giusta o si sta sbagliando? No, sulla prescrizione si deve intervenire, è giusto perché ormai sono troppi i processi che finiscono per prescrizione. Per l'innocente la pena diventa il processo, per il colpevole il processo diventa il luogo in cui far maturare la prescrizione. Così come sono assolutamente contrario a uno Stato di diritto in cui la custodia cautelare la regola e poi le persone vengono condannate in via definitiva dopo magari tanti tanti anni non vanno poi in carcere, quindi funziona ancora male complessivamente il sistema giudiziario. Però credo che il tema principale che oggi dobbiamo affrontare sono le troppe collusioni all'interno delle istituzioni. Diceva Paolo Borsellino che del politico mafioso te ne puoi liberare in cabina elettorale. Quando cominciano ad essere troppi gli appartenenti alle istituzioni, magistrati compresi, collusi, corrotti e mafiosi, c'è un tema di tenuta democratica del Paese.